5 migliori ombrelli anti-vento Ombrello peghevole. Immune e automatizzato sia in apertura che in chiusura, questo ombrello anti-vento muco si adatto a coloro che desiderano un prodotto superbo ad un prezzo notevole. Costruito con materiali rispettabili, alcuni potrebbero pensare che si sta facendo una concessione a basso prezzo, ma non è questa la situazione. È coperto di teflon e si asciuga anche in un batter d'occhio. È resistente all'acqua per assicurarsi che l'acqua 2000 funzioni e il tessuto. Al numero 4, abbiamo Amazon Basics, ombrello. Anche l'Amazonia entra in campo con questo ombrello anti-vento, i bastoncini sono dotati di molle anti-stress e anche alette realizzate appositamente per far fluire l'aria. C'è un articolo totale. La gestione è fatta per essere tenuta in mano in completo comfort, l'albero è forte e anche forte, probabilmente un po' corto. Al terzo posto, abbiamo la Senzgrado Automatic Ombrello. Senz è un marchio rinomato che produce ombrelli e anche in questo caso non si nega offrendone uno con una forma insolita progettata appositamente per essere resistente al vento e anche una delle condizioni climatiche più difficili da gestire. Una cosa va confessata, non è un ombrello per chi odia portare anche il minimo interesse a se stesso. Infatti, ha offerto la sua forma insolita in mezzo a molti ombrelli tipici di Rudin, nonché forme e dimensioni standard attirerà sicuramente l'attenzione, come puoi vedere dall'immagine sopra. Al numero 2, abbiamo Helium Sur Ombrello. Ecco un eccellente ombrellone da viaggio, molto forte e di grande qualità. Contenente nove templi rinforzati per soddisfare anche il vento più seducente. Considera un po' più grande del solito, ma è normale per un oggetto che contiene una tecnologia moderna così avanzata in così pochi centimetri. Lo stile è sofisticato e non guarderebbe fuori dalla posizione come accessorio fattibile di maschi e femmine eleganti. Il materiale è realizzato in teflon, totalmente idro-ripellente, vedrai l'acqua scivolare dritto senza appoggiarsi sul tessuto. La chiusura è semi-automatica molto rapidamente, semi poiché non appena si preme l'interruttore sarà sicuramente necessario abbreviare la gestione da soli a mano. Infine, il numero 1 nella nostra lista, abbiamo il Lester Beauty invertito. Ecco tra gli ombrelli apribile inverso, perfetti per chi viaggia molto in auto e camion e ha bisogno di un oggetto semplice da aprire vicino quando hanno bisogno di scendere dall'auto. Quando vai in auto e lo chiudi, non sprezza poiché si chiude all'indietro e di conseguenza ci lascia asciutti, non portando acqua direttamente nell'area passeggeri. La maniglia è certa, a forma di C, puoi metterla dritta sul braccio lasciando le mani senza costi, meglio per coloro che funzionano o sono tipicamente occupati. È dotato di due colori vari, come se fosse doppia faccia, quando viene salvato chiuso e colorato, più facile da trovare se lo trascuri da qualche parte, aperto piuttosto che nero, in onore della sobrietà. Come sempre, troverete tutti i link dei prodotti che abbiamo discusso in questo video giù nella descrizione qui sotto. Grazie per aver guardato il nostro video, si prega di come condividere questo video, e non dimenticate di iscrivervi al nostro canale per i video futuri. Grazie per aver guardato il nostro canale.